eh beh scusa due più due cerca di farli bene così nelle scese e faccio quattro salti non faccio tre salti ha capito capito come fare salti bassi apposto grazie dimmi assolutamente assolutamente eccolo adesso basta che mi hai detto la tec giusta cioè premere giusto poco poco r1 ha funzionato ma lei ma quando lo vogliamo abbassare questo nec48 sul rock mai fissa di merda falla tu io intanto con nec48 riesco sempre a vincere sul rock super gioco come riusciti si dai vuoi scelte voi oltre a colpo mi piacciono un'altra cosa non è riuscito a riusciti ma veramente che non è giusto allora fomo sul torneo che cosa stiamo a fare No, ma è scispa, facciamo un torneo Che cazzo stai dicendo, stai laggando No, non stai laggando No, mi senti bene Ah, 37-80 lappa, ma che è, seriamente? Stringi Ah, che cazzo No, mi sa che non è che non ho stringo, semplicemente ho sbagliato l'SC Guarda come l'ho beccato al bomber Che bescita lenta prima Ma non lo usi il ghost? Certo che usi il ghost, ci mancarebbe E quanto c'è il tuo ghost di SL? 1,54 e 11, SL fa 70 Altissi E infatti lo prendo all'SL, il problema sono i lap perché fa Ehi, ma sono un segreto E vai Ma che pista stai facendo? Non te la meriti, boh 1,53 e 34 No, non no 37-50 di là Grande, dimmi, grazie, metto la tech giusta Posso fare 1,53 Posso fare 1,53 e 50 Ho detto, io fai 1,53 Ho messito 38-38-54 SL 37-80 e 37-50 Buon, 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 buon Buon, buon, buon...